Cappuccino e due espressi! A domani! Sapete cosa vi dico? Ora mi faccio un caffè con caffè Simac naturalmente perché caffè Simac è unica tutta automatica, nove atmosfere di pressione tutte in metallo Grazie caro! E caffè Simac non fa solo caffè ma anche te, bevande calde e cappuccini! Caffè Simac, il caffè del bar senza andare al bar Caffè Simac non c'era e Simac l'ha inventata